I medici di famiglia della Puglia pronti per le case di comunità. In sostanza arrivano ecografi, spirometri, elettrocardiografi ed altri dispositivi diagnostici negli studi dei medici di famiglia. Per originare il fenomeno delle liste di attesa, la manovra del 2019 consente che i medici di famiglia possano utilizzare apparecchi diagnostici che saranno acquistati dalle asele di competenza, le quali sono stati stanziati dei fondi. Per la Puglia sono stati stanziati 15 milioni di euro con i quali appunto le aziende sanitarie dovrebbero provvedere ad inserire, mettere a disposizione dei medici proprio le apparecchiature. Il decreto dunque risale al 2019 e nasce dall'esigenza di abbattere le liste di attesa, poi l'emergenza covid ha frenato tutto e oggi dopo tre anni di ritardo e in assenza di norme più stringenti dopo l'uscita del PNRR non si rivolge più agli studi singoli o alle sedi di gruppo se non in seconda battuta ma passa per le case di comunità dove i medici di famiglia sono chiamati a trasferire parte delle loro attività. Le ASL dunque distribuiranno gli strumenti diagnostici a partire dalle case di comunità, gli hub, poi alle case SPOC e poi infine alle case SPOC dai gruppi di medici di famiglia e pediatri. In sostanza prima si doteranno le strutture più grandi e man mano andranno a essere dotate anche le più piccole. Nel privilegiare le SPOC e le sedi più piccole le ASL dovranno tener conto di quanto il territorio sia difficile da raggiungere o da percorrersi e quindi in base a questo principio l'ASL dovrà dotare la struttura degli apparecchi. Rispettando dunque sempre il principio della capilarità dei servizi che è previsto proprio dal PNRR. Ora avranno 90 giorni di tempo le regioni per presentare al Ministero della Salute un piano pluriennale dei fabbisogni dettagliato con gli obiettivi di salute perseguiti, dispositivi richiesti con la descrizione delle tecnologie e dei costi, i modi di acquisizione, i tempi di messa in funzione, il piano di manutenzione e il tutto dovrebbe concludersi entro il 2023.